Il passaggio è quello che riguarda i ristoranti. Vogliamo una città a misura di bambino e lo slogan utilizzato per il progetto ideato e promosso dal Consiglio dei Bambini di Fano. L'idea nata nell'ambito dello studio Fano Accogliente è stata avviata anche dal Comune tre anni fa e riguarda una serie di iniziative che coinvolgono i bambini della città per rendere i ristoranti accoglienti a misura di bambino e proporre a tutti coloro che hanno una struttura ricettiva un nuovo modo di pensare la propria attività con l'obiettivo di promuovere l'iniziativa a livello turistico. Al progetto sono stati coinvolti anche le associazioni di categoria tra cui ConfCommercio, ConfEsercenti e Osi ConfArtigianato i quali hanno costituito una commissione per valutare e selezionare i luoghi di ristoro più adatti ad ottenere un bollino di certificazione di qualità. Il titolare del ristorante infatti dovrà soddisfare almeno tre criteri di valutazione su quattro ideati dal Consiglio. Il progetto nasce dai bambini, da una richiesta esplicita dei bambini che di solito quando vanno con i genitori nei locali eccetera rischiano di annoiarsi perché i tempi non sono quelli dei bambini quindi hanno chiesto delle opportunità per passare il tempo in modo più divertente e quindi hanno chiesto una serie di cose a partire da un menù che si è dedicato a loro a un kit per giocare quindi a delle occasioni e opportunità di gioco e di giocare non solo da soli ma anche con altri bambini che possono incontrare nel ristorante hanno chiesto i camerieri più gentili perché magari quando i bambini sono vivaci i camerieri li sgridano eccetera uno spazio nel ristorante che sia dedicato ai bambini e anche la possibilità di mangiare più bambini in uno stesso tavolo anche che non si conoscono magari quindi un'occasione di socializzare con altri bambini. Quanti ristoranti attualmente hanno aderito al progetto? Allora l'interesse l'hanno dimostrato e manifestato mi sembra cinque sono? Quattro o cinque. Il kit che verrà consegnato ai ristoratori aderenti al progetto sarà composto da una tovaglietta un pieghevole con giochi all'interno e un volantino rivolto ai genitori inoltre ai ristoranti verrà garantito l'inserimento in una sezione dedicata del sito Fano Città delle Bambine e dei Bambini periodica promozione del progetto da parte dell'amministrazione non solo a livello locale ma anche nazionale ed europeo assieme ad una promozione dei ristoranti da parte delle associazioni di categoria.